Grazie 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 mi era segnato sempre, perché ti vada qua, vada là, vada al pezzo, tu non vado a segnare. Però, lui è stato un personaggio, per esempio, per illustrarvi come si forma poi la personalità di un essere umano, ma al di là di un mestiere, c'era proprio di un grande amico, che si chiama Melba Englander, con un vestito militare. Questa è la prima cosa che era, che era, lo stavamo vestito al giro, bellissimo, una sera, un'attiva da sera. E quando io impida la macchina per un'attività, per chi ha fatto il rapporto e mi dice, no. Lui, finita la giornata, dice, no, che mi dunque, che mi ha detto, no, 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 che mi ha detto. si presentò l'amore, con il vestito montato e in mano dalla Bibbia dei Pantelli Medici, il frasolo di soledà. La Pantelli Medici era una tecnica città portata. Avevano un aumento di cento e cento milioni qualificabili per un atteggiamento non scontentivo, perché avevano stato contropassato che era stato fatto dalla comunità sulla piazza due giorni. Ecco, dove sono le persone, hanno formato la nostra coscienza.